Cari fratelli, vi incoraggio a continuare nell'impegno per la ricostruzione del vostro paese alla ricerca dell'unità della giustizia e della pace. Lo ha detto il Papa ai Vescovi del Madagascar ricevuti al termine della visita ad Limina. Papa Francesco ha elogiato l'impegno delle diocesi e delle congregazioni religiose nelle opere sociali ed ha sottolineato l'importanza dell'impegno della Chiesa nel campo scolastico ed educativo. I Vescovi sono stati esortati a prendersi cura di ognuno dei sacerdoti proprio per la vastità delle sfide da affrontare. Infine Papa Francesco si è riferito all'impegno della Chiesa nel dialogo interreligioso, all'importanza di testimoniare nel quotidiano e all'attenzione nella gestione delle risorse economiche per evitare problemi e scandali.